Buonasera e benvenuti nel Teatro Toselli di Cuneo. Per me è un grande piacere stare qui e presentarvi questo programma La Ricordanza con l'aiuto di Liria Productions. È un concetto racconto ideato da me dove io narro la vita di Vincenzo Bellini e lo illustro non con le aree d'opera come si potrebbe forse immaginare ma con le sue musiche vocali da camera e oggi mi aiuterà in questo concerto il mio amico e maestro Richard Barker. L'idea di questo concerto racconto mi è venuta quando ero a Catania in casa museo del compositore. In questo palazzo Gravina Crujas, la famiglia del compositore dove lui era nato occupava pochissime stanze. Adesso il museo è un po' più grande, si è ampliato e tra i vari cimeli della vita del compositore, gli oggetti personali, spartiti, manoscritti, addirittura la bara nella quale hanno traslato il corpo di Bellini da Parigi a Catania, si trovano due strumenti che appartenevano a Bellini. Sono in uno stato pietoso, non si può suonare, fare la musica con quelli perché mancano i tasti, le corde, ma guardandole ho pensato ma qual era la voce di questi strumenti? Cosa sentiva Bellini componendo su questi strumenti e come le loro capacità tecniche, i loro timbri hanno influenzato le sue composizioni? Tutto questo mi ha portato in una ricerca molto interessante, ho incontrato moltissima gente molto interessante come musicologi, collezionisti di strumenti d'epoca, gli accordatori, i pianisti. Oggi per questo concerto abbiamo un bellissimo strumento, è un playel del 1858, gentilmente concesso a noi dalla collezione Formentelli e messo a punto da Tonino Rappoccio al quale esprimiamo gratitudine e riconoscenza. All'epoca la vita culturale della gente si svolgeva nei salotti, nei teatri ovviamente prima di tutto, come questo bellissimo teatro del 1803, ma anche nei salotti di case private e in questi salotti non poteva mancare uno strumento del genere per fare la musica. Bellini sicuramente frequentava i salotti a Catania, Napoli, a Milano, a Parigi, suonava, cantava, componeva le sue musiche da camera a volte come i regali per le persone importanti, a volte queste musiche gli servivano come degli abbozzi per le aree d'opera che poi li utilizzerà nelle opere. Tutta la vita di Bellini è legata alle musiche da camera e per esempio si conosce la primissima area da camera, la Farfalletta, che sicuramente non era di Bellini perché l'hanno trascritta dopo, insomma a memoria, fino alle ultimissime note che lui ha scritto nella romanza Le Souvenir che hanno trovato dopo la sua morte sulla scrivania del compositore. Bellini nasce il 3 novembre 1801 a Catania in famiglia di musicisti, il suo padre e il suo nonno sono gli organisti e i compositori e i suoi primi passi Bellini fa sotto l'osservanza del nonno e abbiamo anche delle musiche sui temi sacri di Bellini bambino, insomma. All'età di 17 anni Bellini, dopo aver ottenuto stipendio dal Duca di San Martino, va a Napoli per continuare i studi della musica nel conservatorio di San Sebastiano. Napoli all'inizio dell'Ottocento era una capitale mondiale della musica e dell'opera, i migliori compositori, i migliori cantanti lavoravano lì e ovviamente il teatro più ambito era San Carlo di Napoli. Bisogna notare un fatto curioso, come funzionava San Carlo? Sì, era ovviamente il teatro, però il maggior ricavo questo teatro riceveva dal gioco d'azzardo che si faceva in teatro, dunque la gente veniva a vedere la recita, lo spettacolo, giocava al casino, perdeva perché il casino ovviamente vince sempre, la parte del ricavo andava nelle tasche del re, e d'altra parte sponsorizzava le altre opere che si facevano a San Carlo. Insomma è un sistema molto bello che funzionava a meraviglia, il denaro c'era e curiosamente ancora adesso c'è un teatro al mondo che funziona così, il teatro di Monte Carlo qui vicino, l'unico teatro al mondo che praticamente condivide l'edificio con un casino che funziona. Insomma sì, San Carlo era una specie di Las Vegas dell'epoca. Bellini resta in conservatorio per otto anni, qui conosce una persona con la quale stringerà un'amicizia molto profonda e che la accompagnerà per tutta la sua vita, è un Francesco Florimo si chiama questa persona, anche lui studiava la composizione, ma la carriera del compositora non l'ha fatto, è rimasto a lavorare nella biblioteca del conservatorio per tutta la sua vita e per tutta la sua vita Bellini gli scrive le lettere. Il maggior epistolario che abbiamo è scritto tutto a Francesco Florimo e io in questo mio concerto racconto ho deciso di leggere alcuni estratti delle lettere di Bellini per dare a lui la voce e la possibilità di esprimersi su alcuni argomenti. Francesco Florimo distruggerà molte delle lettere di Bellini, in alcune lettere cambierà le parole o eliminerà alcune frasi per abbellire la reputazione di Bellini, per renderlo un po' meno umano, può darsi, però anche quelle che noi abbiamo a disposizione sono molto belle, infatti qui abbiamo una che parla proprio dello strumento, Bellini cerca di persuadere lo zio ad aiutarlo ad ottenerne uno e scrive carissimo zio mi dispiace una cosa sola che donna Cristina lascio la musica, essa tiene il pianoforte che dorme e io qui ne desiderassi uno per sollevarmi l'anima, mi doveva comprare un cembalo a martelli e non ne ho potuto ritrovare uno, fanno dei pianoforti piccoli e ne vogliono sangue e codesta cugina calcola cotesto bello strumento per niente, iddio manda il pane a chi non ha la bocca. La romanza dolente immagine che canto adesso è stata scritta proprio a Napoli, si credeva che l'autrice del testo fosse il Maddalena Fumaroli, un giovane ragazza proveniente da una famiglia di un giudice alla quale Bellini chiese di sposarla addirittura, ma fu rifiutato dal padre per l'estrema povertà, ma più probabilmente l'autore del testo era Giulio Genoino che era l'insegnante di lettere della ragazza. Abbiamo molti manoscritti di questa romanza che era diventata subito molto popolare, famosa e amata. Volente immagine di file mia, perché si squallida mi siedi accanto, che più desideri, che più desideri. Di rotto pianto io sul tuo cenere versai finor, io sul tuo cenere versai finor, io sul tuo cenere versai finor, io sul tuo cenere versai finor. Temi che in memore dei sacri giuri io possa accendermi ad altra face, Ombra di filide riposa in pace, riposa in pace, inestinguibile l'antico ardor. Ombra di filide riposa in pace, riposa in pace, inestinguibile l'antico ardor. E inestinguibile l'antico ardor. E inestinguibile l'antico ardor. E inestinguibile l'antico ardor. Grazie a tutti.